Le energie rinnovabili sono sempre esistite, solo che non hanno mai avuto la massa critica per diventare competitive con le energie fossili. Questo è un problema di governi ma anche di opinione pubblica, perché è l'opinione pubblica che costringe i governi a prendere coscienza che solo le tecnologie rinnovabili possono sviluppare un'economia a beneficio di tutti, sia in termini economici che ambientali e perciò di qualità della vita. Fino adesso le energie rinnovabili si sono mosse singolarmente, qualche governo, qualche produttore, qualche utilizzatore si sono mossi in modo abbastanza individuale. Per creare una coscienza ecologica bisogna muoversi in gruppo e in modo sinergico, ma soprattutto essere ben documentati su ciò che c'è di veramente vero e utile e su ciò invece che è solo uno spot pubblicitario. Robur ha molto a cuore la diffusione dell'aspetto scientifico che può utilizzare in modo proficuo e razionale degli rinnovabili. Se ti sta a cuore diffondere una buona conoscenza delle tecnologie rinnovabili, la prima cosa che ti occorre è una buona documentazione seria e scientifica. La seconda cosa è parlarne, parlarne con competenza, con cognizione di causa e invitare a tua porto i tuoi uditori a parlarne fin quando si diffonde una seria ipotesi di tecnologie rinnovabili.